Ciao ragazze, ciao a tutti. Allora sono le 7 di sera di giovedì e io sono venuta a Vercelli, al DM, perché era un po' che volevo venire, adesso mai più. Adesso mai più ne approfitto per guardare un paio di cose e anche per cercare un regalino per mia nipote perché la palette da Londra non arriva. Guardate, ci vedete esattamente, DM, eccolo qua, vabbè, è lui, ci vediamo dopo. Ciao a tutti, allora faccio questo video perché sono stata da DM e ho comprato un po' di cosine, volevo farvi vedere in anteprima ma poi vi parlo uno per uno di quelli che mi rimangono ovviamente perché poi qualcosa regalo e quindi non rimarrà. Allora, prima di tutto vi faccio vedere questo profumo che ho contato per mia mamma, il Monotem agli agrumi. Non so come sia ma hanno sempre sentito parlare bene e quindi ho deciso di regalarlo per Natale. C'era il 25% su tutti i profumi, penso che duri fino a fine anno, quindi se avete un DM sicuramente è aperto in questi giorni, anche se sono zone rosse, quindi magari andate a comprarvi un profumino perché merita. Io DM, come vi ho già detto, li conosco bene perché li ho conosciuti su in Austria e in Germania e la prima volta che ho visto queste pareti di profumi con tutti, tutti i tester, low cost e meno low cost, sono impazzita. Anche perché i DM su sono più grandi, hanno tutti i tester di tutti i profumi e nessuno ti rompe le balle mentre li stai sentendo. Anche perché si fidano delle persone che sono molto educate, rispettose, mettono le cose a posto, non rubano, cosa che in Italia sarebbe infattibile in catena del genere tenere tutti i tester. Lì ci sono di tutti i tester, quindi ho potuto sentirli. Ho trovato poi l'olita lempica, sembra sugli 11 euro il 30 ml, comunque questo è il classico, tra l'altro in questo periodo è stato rimesso perché mi ha detto la commessa che era stato sospeso, per un po' non gli arrivava più il classico, ma c'è il mon, c'è lo sweet e c'è il le, quindi questo classico se vi piace correte a prenderlo. Poi per che cosa sono andata io da DM? Per una cosa, perché sono impazzita, qui saluto Miss Danarelli Cristina perché lei ha trovato questo felge azzurra in un DM a Rimini, mi sembra comunque da quelle parti. Io il giorno dopo ho chiamato subito Vercelli, ma questo è un mesetto fa, sembra anche più di un mese, ho chiamato Vercelli, il DM mi ha detto no assolutamente qua non c'è il kit di, il kit, il felge azzurra classico. Allora qua c'è il 50 ml dentro, a parte la lattina che è stupenda, meravigliosa, vintage, la potete tenere per tante cose. Questo è il profumo, il profumo è veramente buono, è fedelissimo al profumo, poi magari farò una recensione dettagliata, ma cioè questo è il flacone ed è, ecco faccio vedere bene, bene, bene. Ed è il 50 ml, pagato 8,18 euro, ne ho presi 4, ho presi 4 perché quella sera del live, molte ragazze hanno lamentato di non trovarlo, ma anche nei gruppi, io gli ho detto ne prendo 4, tanto qualcuno che poi li vuole lo trovo e gli faccio un favore perché so quanto è frustrante non trovare un profumo che si cerca e quindi ho detto io li prendo tutti, ce ne erano 4, 4 hanno presi e quindi aiuterò qualcuno. Poi un'altra cosa che ho preso, sempre da DM perché era in sconto, ma perché mi piaceva, acqua e sale di Apiarium. Questo dicono che dopo un po' evolva in saponetta, quindi io l'ho voluto a tutti i costi. È un marino molto pulito e anche questo era, passava agli 11 euro, figuriamoci il 50 ml, per cui l'ho buttato nel cestino. Non avevo neanche il carrello, adesso li conoscerò meglio, poi vi farò una recensione. Poi ho comprato il, allora, questo profumo qua io lo conosco da un bel po' perché ce li avevano primi dentro la HyperCop. Poi sono spariti, io ho avuto il cocco di questa linea, ma ho sentito sempre anche gli altri. Questo profumo qua si chiama, allora, si chiama Tutti Fleur d'Iris. La marca è fatta in Francia, a Marsiglia, tra l'altro questa linea, e secondo me tutti sono veramente carini. Tipo io ho avuto il cocco anni fa, poi mi sono stofata del cocco e l'ho dato via. Però comunque, cioè, sono veramente carini. Tutti c'è il gelsomino, c'è la vaniglia, c'è i fiori d'arancio che volevo prendere, li prenderò poi. Sono molto semplici. Allora, questo qua, andiamo dove posso... Allora, adesso ho già troppe robe. Sono profumi molto così, leggeri, però questo è un profumo all'Iris talcato. È più fiorito che talcato, però io adoro l'Iris in tutte le sue forme, quindi ho voluto prenderlo. Ho cambiato il pack, prima avevano le bottiglie bianco coprente, adesso hanno cambiato il pack, quindi... Non so se siano ancora come prima. Il cocco è fortissimo. Non durano tantissimo, però per il prezzo che hanno, voglio dire, uno se lo può buttare in borsa e darsene. Poi, la chicca delle chicche, poi ve ne parlerò di tutti, mano a mano. La chicca delle chicche è questo, vi faccio vedere, l'ho aperto adesso. È Varenzia White. Varenzia, voi conoscerete l'Indra, conoscerete altri profumi che vendono tanto qua in Italia, nei supermercati. Questo purtroppo nei supermercati non c'è, c'è solo da DM. E io all'estero l'ho sentito perché c'erano i tester. Questo è un profumo alla tuberosa, ma ha i fiori bianchi. Guardate che carino il borticino. L'ho voluto prendere perché ai tempi... Io non ho più profumi alla tuberosa perché li ho dati via, perché anche lì ho fatto indigestione anni fa. Prima di tutto con Blonde, poi ho avuto il Nake di Madonna. E poi mi sono stufata, quindi ciao. Però volevo riavere per questa prima vera, magari un profumino di questo tipo. Ecco, se vi piace è la tuberosa, ma dopo un po' prevalgono gli altri fiori. Se amate la tuberosa vi consiglio di sentirlo, dargli un'opportunità perché è molto carino, molto carino. Basta. Questo è tutto quello che ho comprato al DM. Vi farò nei prossimi giorni il dettaglio di questi profumi, dei mini video dove ne parlo. Vi mando un bacione. Ciao. A presto. Ciao, ciao.